L'amore che vince tutto, ringraziamo tutte queste coppie che hanno voluto regalarci le loro storie ed ora vi raccontiamo una storia d'amore per la Basilicata, una storia che è nata 20 anni fa che compie quest'anno il suo ventennale e la storia del Trend Expo. Qui con me c'è Enrico Sodano, l'ideatore di questa iniziativa, un'iniziativa che ha dato il via anche ai festeggiamenti qui ad Abriola. Sì, noi abbiamo cercato di coniugare un messaggio forte che era quello della festa degli innamorati con il futuro delle generazioni perché l'amore per la propria terra, l'amore per i sentimenti poi produce quello che fa diventare grandi le idee. Come è stato Trend Expo che nel 1995 ha iniziato il suo percorso e ha cercato sempre di portare al centro la responsabilità civile sul futuro delle generazioni. Ecco, stiamo vedendo le immagini del 7 di febbraio quando si sono aperte le celebrazioni qui ad Abriola. Di che cosa si è parlato in quel giorno? Abbiamo collegato quella data, il 7 di febbraio, con l'Expo delle Idee che c'era a Milano. Quindi noi abbiamo lavorato per raccontare cos'è stato 20 anni di Trend Expo ma anche per raccogliere con tutta una serie di attori del mercato della Basilicata quindi il partenariato economico, cittadini, associazione, giovani delle idee che stavamo sistematizzando come è accaduto a Milano in quella data per poi restituirla alla Regione come messaggio e come percorso che ci porterà a maggio a festeggiare dal 14 al 17 maggio proprio il ventennale in senso stretto. Ed uno dei frutti di questi 20 anni del Trend Expo ce lo racconta Anna Maria Sodano, giornalista e diciamo imprenditrice, ha avviato una nuova impresa al femminile. Di cosa si tratta? Sì esatto, è un'agenzia di comunicazione, organizzazione di eventi ma anche manager delle politiche attive e del lavoro. Abbiamo avviato un partenariato proprio con l'ediatore del Trend Expo ma anche con tutto il comitato scientifico per entrare nel merito di 20 anni, 20 anni di esperienza straordinaria che abbiamo vissuto essendo parte naturalmente di questo evento riconosciuto a livello nazionale. Come cooperativa ci distinguiamo proprio perché portiamo dei format innovativi. Per questo il comune di Abriola vi ha affidato l'organizzazione di questo evento? Esatto, e la capacità proprio di saper leggere quelle che sono le tradizioni di un territorio, la fede, l'amore per la propria appartenenza ma anche questo legato a tutti gli eventi sportivi e culturali. Ecco appunto la cultura, stasera ci sarà un collegamento con Sanremo tu sarai la conduttrice di questo evento? Beh sarà speciale poter raccontare la storia della musica italiana riportando in un concerto quelle che sono state le canzoni naturalmente più importanti del festival di Sanremo contestualizzato proprio tutto all'insegna dell'amore. Tra l'altro c'è la possibilità di poter apprezzare una mostra cinematografica che riporta delle immagini a partire dagli anni 30 fino ai giorni nostri insomma il cinema davvero che fa da palcoscenico all'amore. Ed ora vi raccontiamo...